Sperde la chiocciola La scala chiocciola Si sperde Scompaiono i tasselli Non è vero Io l'ho fatta tutta diretta Anch'io sto facendo tutta diretta Ma perché stanno scomparendo i tasselli Tu non lo stai vedendo Tu non l'hai visto perché eri in prima persona Ma in terza persona si vede Tu quale sei? Non l'ho toccato Mi stava dando sui nervi Ciao Ci ho perso mezz'ora Cioè hai avuto culo tu Ma guarda te non l'ho toccato Cazzo io si In pieno Si ma tu imbrogli Perché? Perché hai visto il livello di quell'altro Io sono morto Nessuno mi evita di Va bene allora la prossima volta io taglio Vado 30 livelli avanti Quello non va bene E sono morto Mamma sono Jennifer Lopez In che senso? Io sono Jennifer Lopez Perché? No qui non ci posso Perché io sono Jennifer Lopez Che palle Che c'è? Eh che c'è? Non riesco a superarlo Oh ce l'ho fatta Ma questo qua è a caso? O forse si sta togliendo da sotto come prima? Non l'ho capita Non lo so Stai a aspettare un attimo così lo vedi Ma sei sempre lì? Sì Va bene Allora scusami un attimo eh Se ci sono dei quadrati per terra C'è una scacchiera E io non devo toccare certi quadrati Ma se io nel mentre che sto volando Muoio Chi cazzo mi ha ucciso? Io non sono ancora atterrato Non lo so Ma dai ma Ok l'ho superato Brava Allora qua devo farlo in terza persona No non è vero Non l'avevo preso Come hai fatto? E tu ti pensi che te lo dico? Sì perché mi vuoi bene Ed è proprio qui il punto Questo lo credi tu Grazie Grazie mille Vabbè ma i fini del gaming No ma ha spinto sta puttana Senti Nicky Minaj Sono morto Ce l'hai fatta? Ah sì sei lì Brava 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 Io so cosa Sono al cuore della scacchiera come dicevi te Dove sei? Ho fottuto anche questo No Questo non ho potuto fottarlo Spero male Sei morto? Questo non ho potuto fottarlo Vabbè Stavi andando a fianco Sì È così che hai fottuto qual'altro? Sì Ma dai Mi sono andato tutto a fianco Ma è impossibile farci gioco con te Perché? Perché tu bari Non baro Trovo il modo di fottere il gioco Che diver... Non so Sarai morto ma non sono morto Ok Oh signor Cos'è la cosa? Ah Paloncino e non paloncino Paloncino e non... Ecco Sono morta perché non ho preso il non paloncino Adesso ti recupero Cosa credi? Quanto siamo quasi alla fine No Scusate Se libero stiamo? Io sono dentro la bocca Come dentro la bocca? Sto scendendo Hai finito Sto scendendo nell'intestino Non è finito Possibile No c'è ancora della roba Sto entrando nella bocca anch'io Vai bocca Ok ce l'ho fatta Ok mu E mu Ah qua Devi scendere Arca vacca Brutto che minchia Quanto sei salita velocemente dei livelli Ok 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 Ora che cacchio è questi delle palle del testino? Prometto che il prossimo parkour che faremo lo faremo insieme Non ci credo ma neanche Guarda Il prossimo parkour lo scegli te che questo l'ho scelto io Ma te sei ancora lo giuro Io sono ancora trasparente Madonna quanto odioso sto livello Madonna l'odio che mi sta salendo Allora devo farlo laterale No non ci riesco È indecente sto livello Ma è quello che hai detto che ci perderà un po' di tempo? No L'altro l'ho battuto subito Però hai detto che io ci perderò del tempo Ma perché ce l'ho perso anch'io Porca Puttana Le puttana Io è allo tantesimo livello Voglio fare quello di minecraft che ha fatto favigie con Pietro Porca puttana Eh Dobbiamo avere ma un po' Ma chi è sto coso? Si può accadere anche da solo Perché sono diventata rossa di faccia? E anche io Allora siamo lo stesso No quando muori No è la prima volta che quando muori divento rossa Porca la zocca Ero sempre rimasta bianca Non aveva mai successo di essere rossa Ma perché ti stai iniziando a girare i coglioni Ecco perché Eh Secondo me anche Sto rompendo le balle di morire Tu personale Ma che cos'è sto coso? Ma perché? Ma perché non mi vedi i piedi? Perché non posso vedermi i piedi? Perché sei in prima persona amore E i piedi comunque ce li ho Dovei vederli No c'hai troppa ciccia Se neanche io riesco a vedermi i piedi Sì certo C'ho la ciccia invisibile Porca di te Eh ma sto livello Io quinto a fare due secondi Che cos'è? Che questo non mi sembra tanto sempre No non ce la faccio Ma non ce la faccio E non ho capito neanche a quale livello sei Sono due tre livelli più avanti a quel punto Ormai mi hai raggiunto Sono al livello prima Se ora invece una stronzata Trovi la soluzione Ti sparo Se non ci riesci te Non ci riesci mai più Se invece tu ci riesci alla prima Io quinto non ci gioco più a Roblox Lo disinstalno Non ci sono riusci alla prima Che palle Anche se ci riesci entro le cento volte Ma perché? Perché sono qua da un'ora io Eri a 74 quando ero qua Sei all'86 Porca di quella Dai che cado sempre nel buchino Sono due ore che sto cadendo nel buchino Non so non è mai Tutti i tuoi Tutto? Ce l'ho fatta Ciao Ecco Grazie per il suggerimento Addio Vaffanculo Stronto ci sono No ce l'hai fatta Vedi che ci hai messo poco Tu Che cacchio Io mezz'ora ci sono stato No Perché questo C'è i buchini No ho sbagliato Eh vabbè Mamà No però veramente Siamo proprio delle pippe Siamo ancora a livello ur Uuuu Perché continua a morire Nel suo livello Che è una cagata E io l'ho passato E ora me ne vado Molto distante Tu però Cioè Hai vinto quello prima Grazie al mio consiglio Grazie mamma Eh grazie mamma Fammi farciere Aspetta almeno Quei finiti a questo livello Visto che quello prima Non l'hai aspettato Guarda che ti ho aspettato Perché sale Perché sale Si è dottato No non mi hai aspettato Ti avevo chiesto di aspettare Mezz'ora prima E tu eri ancora Tutto sei andato Praticamente 50 livelli No 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 Guarda che ti sto aspettando Non è vero Perché senti Sento muovere Perché sto continuando a morire Ma vuol dire Che non mi stai aspettando Che ci stai provando E se ci riesci vai avanti Se non ci riesci Sei lì Sono due cose diverse Che stare fermo Vabbè ma è soggettiva la cosa Toviti Che non riesco a prenderci a point Questi video Lo faremo uscire In concomitanza Con lo speciale Un milione di iscritti Sì Certamente No 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 Non è vero Non è vero Non è vero Che mondo Codere Mamma non lo so Ne scendere Ne salire Ne scendere Ne salire Ma dove sei? Mamma Ma io non ti vedo Mamma Non c'è un naso ghiacciato Eh la codina ghiacciata E la codina ghiacciata Eh ma grazie al cacchio E ma c'è un naso ghiacciato Grazie a casa tua Ci sono due gradi Non è vero Ce ne sono 14.3 in caso Vabbè E allora come fai A avere il naso ghiacciato? Perché c'è fegno Ma mi hai raggiunto? Non so quale sei Sto continuando a morire Come un coglione Mamma mia Che fastidio Che mi dà Ciao Ciao Vallo stronzo Non mi hai aspettato Una minchia Mi hai aspettato Eh Gesù T'ho aspettato Non rompire barri Porca miseria Non mi hai aspettato Stavi continuando a morire E non sei deciso a superarlo Vabbè E comunque aspettati Ok allora Alla fine di questo Fermati Porca puttana Quale fine Che non ci sarà mai La fine di questo Io non riesco a superare Manco il primo Com'è possibile? Porco giunto Ma che schifo mi fa Sto gioco Mi fa proprio Un po' cagare Oh Mi hai spinto Ma se lo davanti Eh Quando sono spawnata C'è verità Che mi spingevi Santo Dio No Non mi sceglie sul mio corpo Porco Sempre all'ultimo Sempre All'ultimo Mi sta venendo No dai Mi sta venendo L'ulcera Al ginocchio sinistro Bruta stronza Non spingere Vedi che Come è successo a me Ma perché ha fatto bene Sto gioco Vai Corri 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 No Non so Bisogna sceglierli Bello Bellissimo Dai amore Ce l'hai quasi fatta Ma continua a preparare Come un coglione Bravo Vado No no Aspetta Aspetta Ma sei morta Eh ho preso il buco Da tolite Toglite dal cazzo Posso andare? Sì sì E? E abbiamo finito Basta finisce così? Sì Ma che cosa triste Sì Già se li butto giù Ma che cosa triste Lo li facciamo adesso al contrario Vai Sto tornando indietro Ma va Signori sto tornando indietro Ma aspetta mi facciamo l'altro Io sto qua col cazzo che ho finito e torno anche indietro No sono caduto Ecco così un paio Se spogno di nuovo da te E cacca Esatto Ok Allora abbiamo finito Sto aspettando l'altro anche lei Va bene Bene ragazzi Per questo video di Raulop è tutto Spero vi sia piaciuto Se fosse così iscrivetevi Lasciate un like Qua ci abbiamo la fila umana Commentate nell'eventualità Che vogliate vedere Altri video del genere Sul nostro canale E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ciao Ciao